Quest'anno è stato veramente importante prestare attenzione anche a questo tema della prevenzione sismica. In questa giornata abbiamo cercato di inserire tematiche che possano creare attenzione e interesse e stimolare una maggiore sensibilità verso la prevenzione sismica portando anche relatori importanti come Emanuela Guidoboni e anche un rappresentante del Consiglio Nazionale Architetti che ci hanno illustrato questa importante iniziativa che è stata messa in campo a livello nazionale e che trova un'applicazione a livello locale.